ecco che succede a chi decide di venire in bicicletta da ostia antica a ostia passando per via di piana bella attraversando una bella pineta la pineta di progoio fiancheggiando la ferrovia avete appena sentito passare adesso il treno si cerca di arrivare a ostia ma ecco qui ci si trova di fronte a un muro che è il muro di una scuola giustamente i bambini non devono correre pericolo di intrusione da parte di sconosciuti o peggio ancora di uscita dal lato sbagliato della scuola quindi questa rete di protezione è sacrosanta e legittima ma viene da pensare perché non si è concepito un varco parallelo al muro antirumore installato di fianco alla ferrovia e consentire attraverso quel varco anch'esso recintato chiaramente di poter raggiungere via capo delle armi